Buongiorno! 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 Kendi è poesia Kendi, Kendi è l'armonia Kendi è la magia Kendi, Kendi è simpatia Lei è fra le più importanti e influenti mangaka del panorama giapponese Lei ha fatto la storia del fumetto, del manga e anche dell'anime giapponese Che cosa prova nel vedere anche tanti giovani Che sono cresciuti evidentemente non negli anni 70-80, ma oggi qui presenti a Genova? Sì, sì, sì Sì, sono molto felice Sì, sono venuti bene Sì, sono venuti bene L'insegnamento che possono lasciare i suoi personaggi Come vede il futuro dei manga a livello internazionale? Sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì Cosa ne pensate dentro il nostro paese? Anche come ha possibile fonte di ispirazione lo è stato per esempio per maestre come Hayao Miyazaki? E' anche il nostro cuore molto molto, anche il nostro cuore. Una volta che vengono così. Oggi sono anche il nostro cuore. Ho anche il cuore. Per esempio, è sempre sempre un cuore. È anche il nostro cuore. Molto così, anche il nostro cuore.